padre atlante giove mi manda e vuole che io ti saluti da sua parte e in caso che tu fossi stracco di cotesto peso che io me lo addossi per qualche ora come feci non mi ricordo quanti secoli sono tanto che tu pigli fiato e ti riposi un poco finalmente non sai quanto è noioso starse di qui con questo palla per tutta l'eternità ma come è diventato leggero ed è anche più sgonfio cos'è successo non so che dire ho persino pensato che fosse morto o che si fosse trasformato in pianta come dafine io penso invece che dorma dici una volta gli uomini che lo popolavano combattevano corpo a corpo con i uomini adesso hanno paura dei muscerini e dei rani ma dormirà per sempre grazie a tutti